Il Chieti non sbaglia il secondo match point, batte il capistrello e con un turno di anticipo torna in Serie D a distanza di una stagione. Accade quasi tutto nel primo tempo. Dopo un paio di conclusioni dalla distanza di Mariani, una di queste parata dall'estremo di casa a Franchi, il Chieti, come accaduto contro l'Avezzano, prova a complicarsi la vita da solo. Forti, nel tentativo di mettere una pezza su un retropassaggio di consorte in area di rigore, commette fallo su De Rocis, che stava approfittando del regalo della difesa teatina. Dal dischetto Franchi, però, si fa ipnotizzare da Forti, che si fa perdonare del precedente errore. Dalla cintola in su i neroverdi hanno qualità di tutto rispetto e da una giocata in verticale Fabrizi, con un mancino ad incrociare, a portare avanti il Chieti e come domenica scorsa va a festeggiare con i propri tifosi. Lucarelli si sgola tantissimo per mantenere alta la concentrazione dei suoi difensori, che commettono un'altra leggerezza al ventesimo, quando Luca Rino ingenuamente stende in area di rigore un avversario. Dal dischetto questa volta, però, va Fantozzi, che centra in pieno la traversa. Si salva ancora una volta il Chieti, che poi è fortunato nell'azione che porta al 2-0. Calcio d'angolo ben messo in mezzo da Mariani, Fanti, nell'intento di respingere quei pugni, infila la sfera nella propria porta. Sul finale di prima frazione potrebbe mettere già in ghiaccio la gara il Chieti, ma la conclusione improvvisa di Fabrizi dai 35 metri si stampa sulla traversa con Fanti immobile. Nel secondo tempo poco o nulla da segnalare, se non il tiro di Di Girolamo che prova a riaprire la partita con una conclusione da fuori. Bravo e fortunato, forti a salvarsi con l'aiuto della traversa. E il gol del 3-0 del Chieti, grazie a Rodia, bravo a mettere in rete un cross a centro area di Mariani. La gara praticamente finisce qui, il capistrello tira i remi in barca mentre il Chieti non affonda praticamente più, così al triplice fischio finale parte la festa per il coronamento di un traguardo fortemente voluto dalla dirigenza dopo la brutta retrocessione di un anno fa. Poi la festa si sposta allo Stadi Angelini per l'abbraccio tra la squadra e la propria tifoseria. Chieti! Chieti!